ma non è così grosso ma non è così grosso e le fai mandare un altro per il borsa per il borsa oh, sta struttando sa già che la sua borsa questo è il tuo bag ah, questa è il bag Shoshan Shoshan, ciao a la camera ciao Shoshan ciao Shoshan oh, non è l'occhiare non ti vede non ti vede riguardo te vai chiamo la Rodriguez musica musica in musica massacri musica 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 Grazie per la visione